Oggi è giovedì 21 maggio 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 21 maggio 1972. Sono le 11.30 del giorno di Pentecoste e diversi visitatori affollano la Basilica di San Pietro in Vaticano. Tra di essi un uomo, vestito con un impermeabile blu e una camicia rossa, porta capelli lunghi e una corta barba bionda. Di fronte alla statua della Pietà di Michelangelo, all'improvviso, si libera dell'impermeabile. Estrae un martello da geologo e, saltata la balaustra che separa la famosa opera d'arte dai visitatori, vi si avventa contro urlando «Cristo è risorto! Io sono il Cristo!». Nel giro di pochi secondi assesta quindici martellate alla figura della Madonna, prima che un vigile, Marco Ottaggio, riesca a bloccarlo e, con l'aiuto di altri sorveglianti sopraggiunti, a portarlo via, sottraendolo anche all'ira della folla presente. Quell'uomo è Laszlo Thoth, ungherese di 34 anni naturalizzato australiano, paese in cui si è trasferito nel 1965. A Sydney, dove risiede, non gli viene riconosciuto il titolo di studio in geologia ottenuto in Ungheria. Per questo deve lavorare in fabbrica. Durante gli interrogatori, Thoth continua a ripetere frasi sconnesse. Secondo alcuni resoconti, avrebbe affermato «Che ci sta a fare questa statua qui? Cristo sono io e sono vivo! Sono il Cristo reincarnato! Distruggete tutti i suoi simulacri!». Le indagini accertano che è raggiunto in Italia il 22 luglio dell'anno precedente, alloggiando prima all'ostello della gioventù del foro italico e poi nel dormitorio delle suore spagnole nel quartiere Gianicolenze. Nell'estate precedente si era presentato in Vaticano chiedendo di incontrare Papa Paolo VI e affermando di essere Gesù Cristo. Non viene incriminato. Riconosciuto infermo di mente è internato in un manicomio fino al 9 febbraio 1975, quando viene rimpatriato in Australia come persona indesiderabile. In patria non è sottoposto ad alcuna restrizione. Muore completo anonimato in un soborgo di Sydney l'11 settembre 2012. I suoi quindici colpi si abbattono solo sulla figura della Madonna, mantenendo intatta quella del Cristo. Vengono staccati una cinquantina di frammenti, spaccato il braccio sinistro, frantumato il gomito, distrutti naso e palpebre. Il restauro è coordinato dal direttore generale dei Musei Vaticani, lo storico dell'arte brasiliano Deoclesio Redig de Campos, ed è eseguito dal restauratore Vittorio Federici con l'intervento dei gabinetti ricerche scientifiche vaticani. Vengono usati i frammenti originali, per quanto possibile, e un impasto a base di colla e polvere di marmo. Da allora la pietà di Michelangelo è protetta da una speciale parete di cristallo antiproiettile. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini, sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.